Ciao Giulio Cesare, buongiorno e ben rivisto. Ciao Emilio, ma che giornata oggi è di sole, che bellezza. Allora cosa mi racconti? Qui ancora tutto bene, siamo in ferventi preparativi per il prossimo weekend per Roma, reduci dal grande successo a quanto pare del Gran Galà di Milano dove eravamo anche noi. Troppo buono, troppo buono. Ma diciamo che le persone, il pubblico, sono stati tutto il lunedì a rispondere alle mail del pubblico, perché sai io c'è un rapporto, mi piace il rapporto diretto, i giudizi sono stati molto molto speciali, quindi questa cosa mi fa molto piacere, le aziende erano tutte molto contente, siamo cresciuti molto, pensa che ci sono più di 600 nuove mail di contatti, questa è una cosa bella, voglio dire, che le persone stanno crescendo e nello stesso tempo hanno piacere di essere informate, di essere coinvolte, questo è bello. E quindi andiamo avanti per far crescere l'altra fedeltà, perché siamo qui per questo. Quindi benissimo, archiviato il Gran Galà di Milano, ci attende il prossimo Gran Galà di Roma. Sì, diciamo la seconda, la versione autunnale, voglio dire, no? Quindi Roma, stiamo sul ventennale allo Sheraton Parco dei Medici, quello al 3, quindi sarà sicuramente una bella festa. Tantissime sono le registrazioni online, anche se l'ingresso è gratuito naturalmente, come il parcheggio, però per evitare le file e tantissime sono, addirittura hanno superato le iscrizioni, il totale delle iscrizioni online dell'edizione di marzo. Quindi vuol dire che c'è molta attesa, molto interesse e questo mi fa altro che piacere. Le aziende sono già pronte, il materiale sta arrivando e quindi presto, ora passate questo weekend, della festività dei santi e dei defunti, lavoreremo per il successo di Roma. Ok, d'accordo, ma dimmi qualcosa di più in questo Gran Galà di Roma, cosa ci attende, cosa ci sarà? Sì, ci sono un po' di novità, a parte voglio dire che nei social, nei newsletter e tu stesso informerai dei sistemi, degli impianti, delle aziende, dei distributori o dei produttori che saranno presenti, ma ci saranno degli ospiti speciali, Petra Magoni sarà con noi tutta la giornata del sabato per ascoltare insieme tutte le novità legate a Musica Nuda, perché tutti i vinili sono sul catalogo Fnè, ma anche sui radio CD di Musica Nuda. E poi domenica verrà due leggendarie figure del jazz italiano ed internazionale, Pietro Paoli, nel pomeriggio di domenica e la mattina Gatto, Roberto Gatto, più grande batterista e più grande equester. E poi inizio settimana prossima ti darò un'altra chicca che vedrai che ti garberà. Benissimo Giulio Cesare, allora prestissimo per un Gran Gala di Roma super spettacolare. Vi aspettiamo tutti il 9 e 10 novembre allo Cerato Parco dei Medici, al Gran Gala dell'altra fedeltà. Ciao, grazie.